Allora, c'è una signora con un cane che entra in un bar per prendere un tè. Allora, entra, questo bar è grande, ci sta in tutti i tavoli con tutta la gente già seduta, fino a che trova un tavolo libero, si mette seduto, accanto c'è un signore che legge il giornale. Lei si mette a prendere il suo tè. A un certo punto, mentre sta prendendo il tè, si sente questo accanto, fa una scureggiata paura. Lei si guarda il cane e fa così. Fuffi! Dopo l'altro cinque minuti... Lei, Fuffi! L'altro cinque minuti, sempre quello accanto... Fuffi, le avete da qui, se no il signore te caga addosso! Ahahahah!